Ecco, noi abbiamo una... qui non siamo solo io, sì, no, 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 arrivano i rinforzi. Abbiamo anche il rinforzo da Messina, eh? Elisabetta Reale che farà anche lei le sue interviste. Questa volta è capitata qui per caso, quindi anche... No, no, era anche lei una referendaria, per cui siamo in forza. Siamo in tre, siamo in tre. Ragazzi, viva KLP che siamo uno, due, tre, eh? Pronti. Vente, in giro poi arriveranno altre persone. Adesso vi mandiamo delle foto, vi mandiamo qualche premiato. Alla prossima, salve! Grazie.